13. Le mille attività umane Attraverso Corrado Piancastelli, Maestro Andrea Le nostre esperienze non corrispondono stranamente, direi, secondo le vostre abitudini di classificazione. Non corrispondono a una classifica che prevede attività, mestieri e opere. Cioè, non è che lo spirito certe esperienze le fa facendo il contadino, l'avvocato, il medico, l'insegnante, eccetera. No! Le esperienze non hanno un'identità precisa, ma la prendono occasionalmente, secondo, direi, uno studio, un'analisi che lo spirito si fa. Lo spirito tende ad apprendere a rendersi padrone di alcune caratteristiche essenziali della legge universale. Per esempio, acquisire, come patrimonio personale, acquisire, quindi possedere, per esempio, il senso o il significato della fraternità, la comunione con gli altri, la conoscenza delle leggi della natura, della materia, la penetrazione, appunto, come dicevamo nell'argomento precedente, della materialità. Lo spirito tende ad acquisire queste cose e che diventino patrimonio suo dello spirito, diventino esperienza tale che gli possa poi usare, manipolare queste esperienze come un elemento digerito completamente. Ora, tutto questo, queste cose che sono teoriche, apparentemente, ma che invece sono sostanziali per lo spirito, sono cose che non basta sapere in teoria. Bisogna avere vissuto queste esperienze e comparteciparle. Lo spirito, ovviamente, le raggiunge attraverso i mille mestieri, i mille rivoli, le mille attività umane, fino a raggiungere quello stato di saggezza interiore che corrisponde alla perfetta padronanza di certe nozioni fondamentali che sono a base della legge universale. Poi, non ha alcuna importanza se lo spirito sarà un avvocato, un medico, un ingegnere, una donna o un uomo. L'importante è che egli apprenda tutte queste cose in maniera profonda e le apprenda e le domini e le capisca, le sovrasti. Egli quindi deve conoscere la materia, approfondire la materia, ma al tempo stesso la deve dominare, superare e per far questo egli deve conoscerla a fondo e poi la dominerà. Questo è il compito dello spirito. Lo spirito non può dominare, come diranno alcune religioni, compresa la vostra, senza conoscere. Si usa a dire talvolta che l'uomo deve stare lontano dal peccato. Sì, ma questo deve avere un significato più simbolico che pratico. L'uomo che sta nel peccato, nel momento in cui per varie circostanze vi si troverà dentro, non saprà difendersi, non saprà valutare. voi vi fermate al dato formale, e cioè l'uomo che sta nel peccato commette una colpa. Sì, è vero, commette una colpa, sono pronto ad affermarlo, ma contemporaneamente chi può disconoscere che egli raggiunge anche un'esperienza? Cioè conosce anche quel dato, perché nell'universo non esistono cose che sono peccato e cose che non lo sono, se partiamo dal punto di vista che tutte le cose sono state fatte da Dio. Non esistono peccati, esistono condizioni che possono, direi, non essere conformi alla legge di Dio, cioè possono essere usate in maniera non conforme alla legge di Dio, ma per l'uomo che percorre e conosce e supera, sono un elemento utile e positivo. Io una volta ho affermato preferisco un uomo che pecchi e commetta degli errori a un uomo che non fa né bene né male sulla terra ed è quindi un essere completamente inutile. Io preferisco un uomo che pecchi perché un uomo che pecca, sì nel senso di errori in risposta a qualcuno degli ascoltatori, è un uomo che commette errori. Beh, il peccato è sempre un errore in fin dei conti. Domanda non togliere per esempio la vita al prossimo allora. Maestro Andrea sì naturalmente questo non si deve fare perché non è necessario uccidere per avere le esperienze basta già vedere la morte naturale la morte in sé che è un fenomeno naturale e davanti a tutti. Cioè l'errore non nel senso della violenza contro il prossimo questo l'uomo lo può evitare con la sua volontà ma l'errore che non implica una violenza. l'errore 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 l'errore